Grazie Presidente, questo emendamento è frutto di un consulto in capigruppo, è stato credo sottoscritto anche da altri capigruppo, perché la durata è una cosa importante in questa delibera. La durata è quella che permetterà la salvaguardia delle attività produttive, purtroppo è tutto incernerato sul discorso dei famosi sei mesi, che poi sono diventati nel frattempo molti meno, che non sono sufficienti a salvare l'attività produttiva dal baradro nel quale sono finite a causa delle prescrizioni di sicurezza, quindi per colpa di nessuno ma per tutela di sicurezza dei cittadini. L'unico modo per salvarle è dare una durata ragionevole al provvedimento e quindi i capigruppo che l'hanno sottoscritta hanno ritenuto appunto di portare la durata a un termine inderogabile del 31-10-2021, inderoga al vigente regolamento OSPEC-OSAP, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31-10-2020. Grazie. Grazie.